Le nostre case sono il nostro castello, la nostra fortezza, il solido guscio che ci costruiamo attorno per lasciar fuori il mondo e le sue insidie. Tuttavia, spesso questo senso di sicurezza e intimità non è che una fragile illusione, capace di sbriciolarsi nel momento in cui un intruso dalla mente ottenebrata decide di penetrarla. Era notte fonda e a Scott Street, nel soborgo australiano di Bemaris, nella città di Victoria, la famiglia Warledge dormiva serenamente, persuasa che le pareti della propria abitazione fossero una sufficiente protezione. Ma si sbagliavano. Alle 7.30 del mattino del 12 gennaio 1976, il fratello di Eloise Warledge andò a riferire al padre e alla madre quello che un genitore non vorrebbe mai sentirsi dire. La loro figlioletta di appena otto anni non era più nel suo letto. La polizia intervenne prontamente e la casa dei Warledge, da luogo protetto e sicuro, divenne la scena di un crimine. La camera di Eloise non presentava segni di lotta e niente appariva fuori posto, rotto o sottratto. Il fratello dichiarò di aver in effetti udito rumori strani provenienti dalla stanza di Eloise, ma di aver avuto troppa paura per dare l'allarme. Riferì inoltre di aver percepito un suono crepitante, compatibile appunto con una o più persone che procedevano sul pavimento della cameretta della bambina, rivestito da una sorta di moquette di alghe secche. Proprio sul pavimento, inoltre, vennero trovate tracce di corteccia, la stessa persa dal tronco di un albero del giardino. Il fatto che Eloise non abbia urlato e non si fosse difesa, fece sorgere alla polizia il dubbio che conoscesse il proprio rapitore e l'avesse seguito spontaneamente, uscendo dalla porta principale. A questo punto, gli inquirenti misero al vaglio le molteplici testimonianze e segnalazioni che arrivarono dal vicinato. Qualcuno parlò di un'auto verde che attraversava Scott Street piuttosto celermente, verso le due del mattino. Un altro testimone dichiarò invece la presenza di una station wagon Olden parcheggiata davanti a casa Wordledge, sempre di colore verde. Una donna, invece, riferì di aver individuato, verso mezzanotte, un giovane che procedeva lungo il marciapiede e che questi avesse un aspetto così poco rassicurante da indurla a cambiare strada. La presenza di un sospetto fu ribadita da una seconda testimone che individuò un giovane uomo correre e saltare la recinzione della proprietà dei Wordledge. Altre due vicine, intorno alle due del mattino, dichiararono di aver sentito il pianto di un bambino e la portiera di un'auto sbattere. Malgrado tali affermazioni facessero supporre l'intervento di un intruso, gli investigatori concentrarono le proprie indagini iniziali sulla famiglia, dato che la relazione di Lindsay e Patsy Wordledge si stava sgretolando ed entrambi tradivano il rispettivo coniuge. Si congetturò che fosse stato il padre, depresso a causa dell'imminente divorzio, a rapire la figlia, in modo da ritardare quella rottura angosciante. Tale ipotesi, tuttavia, non venne suffragata da prove evidenti e restò confinata nelle mere supposizioni. Ecco la ricostruzione di quella terribile notte. Lindsay fu l'ultimo ad andare a dormire, raggiungendo sua moglie solo un'ora dopo che ella si fu coricata. Non fece caso al fatto che Patsy non avesse chiuso la porta di casa. La luce del corridoio, che veniva lasciata in funzione quando i bambini andavano a dormire, era solitamente spenta da uno dei due genitori, quello che per ultimo entrava in camera da letto. Quella notte, tuttavia, l'uomo scordò di spegnerla, fatto quanto mai significativo, poiché quando sua moglie si destò per recarsi in bagno, circa alle 4 del mattino, la trovò spenta. A quel punto, due fatti erano quasi assodati. La luce venne spenta dal rapitore e la piccola Eloise era già stata presa quando la madre entrò in bagno. Ma questo, sfortunatamente, è tutto. Di Eloise Warlegge nessuno seppe più niente. Se venne uccisa, l'assassino nascose il corpo talmente bene che in tanti anni non venne mai scoperto. Della sua sorte non si hanno che ipotesi, una più desolante dell'altra. Sono molteplici le attività illecite che possono coinvolgere un minore, specialmente una bambina bella come Eloise, ancora lontana dalle rompere della sua maturità. Quel che forse maggiormente fa venire la pelle d'occhia è che questa sfortunata ragazzina non venne adescata in un parco giochi, non fu catturata mentre percorreva una strada solitaria e non diede credito alle lusinghe di un ingannevole sconosciuto. Venne presa in casa sua, nel suo letto, mentre dormiva e forse sognava, sicura del fatto che non potesse accaderle niente di male in camera sua. In un mondo giusto avrebbe avuto ragione, ma il nostro mondo non è giusto.